Un piccolo teatro, ma non solo per piccoli. Si alza il sipario sulla nuova stagione del gran teatrino a casa di Pulcinella, sempre all'insegna della tradizione, perché le favole di una volta sono quelle che non si dimenticano mai. Il 2 ottobre, primo spettacolo con la maestra Margherita di Nicoletta Costa, spettacolo di attori pupazzi e burattini, come dice il direttore artistico Paolo Comentale, rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni e anche agli adulti smemorati. Un appuntamento importante per la stagione culturale barese, sostenuto sia dal Comune di Bari che da Ubi Banca Carime, che ha ospitato la presentazione della stagione nella sua sede di Bari. Un'istituzione culturale della nostra città che produce iniziative destinate prevalentemente ai giovanissimi e alle giovanissime, ma che ha anche la capacità di aprirsi alla strada, di guardare la realtà anche in un momento di grave difficoltà come quello che stiamo attraversando. La nostra partecipazione a questo progetto vuole ribadire come una banca del territorio, crede fortemente nel binomio economia e cultura. Uno sviluppo della cultura non può che essere, soprattutto in momenti così difficili, anche uno sviluppo dell'economia.